Alta velocità, Francesco Rucco fista l'incontro a Roma con RFI, obiettivo far luce sul tratto est. Rave party, modificato il decreto, il prefetto provvedimento positivo, tentativi di organizzare il rave anche nel Vicentino. Due pregiudicati espulsi, chiamati a rispondere di rapine, aggressione e droga, sono stati scortati in Gambia. Costa Bissara, tre giovani miracolati dopo lo schianto di domenica, il sindaco troppo incidenti nel fine settimana. Rete Veneta porta la voce dei residenti di via Ricasoli e l'assessore Gerardi che risponde a asfaltature nella primavera del 2023. San Bortolo lavaguarda nella cura della lucimia e dell'infomio, primo centro del nord-est ad usare una terapia innovativa. TG Vicenza, buonasera e ben ritrovati, lo avete sentito dai nostri titoli in apertura questa sera. In primo piano l'alta velocità che polarizza sempre di più la discussione politica a Vicenza, in particolare il tratto est ancora da definire. Missione TAV. Nei prossimi giorni il sindaco di Vicenza ha in agenda un viaggio a Roma per progettare il tratto est tra Vicenza e Padova. Priorità al salto del montone, lo scavalco dei binari della linea storica con un cavalca ferrovia alto 15 metri e lungo quasi 2 chilometri. Su questo punto Francesco Rucco è irremovibile, nessun gigante di cemento nei quartieri abitati. Sì, andrò a Roma per incontrare il commissario di RFI che si occupa della tratta Brescia-Padova, con il quale ci confronteremo alla luce anche del dibattito di questi ultimi giorni sull'uscita est. La priorità in assoluto è capire come la TAV esca dalla stazione di Vicenza in direzione Padova, capire il tema di questo scavalco del montone di cui si è parlato tanto in queste ore, che è un'ipotesi interna dell'RFI e che verrà prima o poi anche affrontata dall'amministrazione comunale, sulla quale, dico già, ci sono contrarietà da parte del Consiglio Comunale e in particolare, devo dire, da parte di questa amministrazione. L'amministrazione è da tempo impegnata a trovare una soluzione condivisa con i cittadini per l'uscita est dell'alta velocità. Dopo gli incontri pubblici stiamo valutando anche di fare una commissione o un Consiglio Comunale ad hoc dove confrontarci anche sullo sviluppo est. La TAV oggi è una doppia rotaia che porta verso il futuro, un futuro atteso da tanto, troppo tempo anche dalle forze economiche e dalle attività produttive. È una scelta corretta quella che ha messo in piedi il sindaco Rucco perché è giusto condividere anche con il territorio e con le forze economiche queste scelte. Però a un certo punto bisogna prendere anche delle decisioni e dobbiamo velocizzare quelli che sono i tempi poi di realizzazione perché è già da troppi decenni che soffriamo la carenza di infrastrutture. E se vogliamo essere al passo con lo sviluppo economico abbiamo bisogno di questa infrastruttura. Cambiamo ora pagina e torniamo a parlare del decreto anti-Rave Party. Sentiamo che cosa ne pensa il prefetto di Vicenza. Rave Party cambia il decreto. Dopo le polemiche sul giro di vite voluto dal nuovo governo, il provvedimento adesso si avvia all'iter parlamentare che lo porterà in Commissione Giustizia al Senato. Il decreto è stato modificato ridefinendo meglio il tipo di raduno considerato illegale e quindi superando l'idea che ci possa essere un effetto negativo della legge sulle generiche manifestazioni di piazza. Ritocco al ribasso delle pene per chi organizza o partecipa ai Rave Party escludendo le intercettazioni telefoniche nelle possibili indagini. La questione dei Rave Party oggi però non è solo un tema astratto che si gioca sui tavoli della politica ma ha ricadute concrete anche nel Vicentino. Abbiamo avuto esperienze di tentativi, dico io, di Rave anche nel Vicentino e anche recentemente e da questo punto di vista siamo stati bravi attraverso gli organi informativi a riuscire a intercettare subito questo tipo di preparazione e a orientare diversamente queste cose. In buona sostanza non c'è stato nemmeno un risalto mediatico, in altre circostanze addirittura non sono state completamente svolte, però è un tema che sempre più spesso in qualche modo esiste, va affrontato. In questo momento il governo lo ha fatto con un decreto che poi sarà sottoposto al vaglio parlamentare vedremo quale sarà la valutazione definitiva. Certo, indubbiamente poter offrire più strumenti nella esigenza di intervento è un fatto che io giudico positivamente. Rapine, spaccio di droga e furti sono diversi. Gli episodi attribuiti a due pericolosi pregiudicati africani adesso scortati in Gambia. Due gambiani, un curriculum criminale di cui vergognarsi. Uno ha 25 anni, sbarcato a Lampedusa nel 2016, vive di espedienti. Nel 2021 una rapina in un supermercato aveva portato al ferimento di una cassiera. Due anni fa schio l'aggressione di un anziano rapinato del portafoglio. Poi un furto in abitazione a due ville, inseguito dalle forze dell'ordine, oppone resistenza a pubblico ufficiale. Gli episodi che gli vengono attribuiti lo hanno portato a patteggiare due anni di reclusione. Espulso aveva fatto ricorso sostenendo di non meritare il rimpatrio perché ben integrato in Italia. Ma il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato la sua opposizione proprio per la sua pericolosità sociale. L'altro gambiano ha 43 anni, richiedente asilo politico. Nel 2017 inizia a spacciare droga a Milano, dove viene trovato con due coltelli e un martello. Nel 2018 viene condannato per droga, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L'immigrato, irregolare in quanto non idoneo all'ottenimento della protezione internazionale che aveva richiesto, si trasferisce in Veneto a Vicenza e continua a delinquere fino all'arresto per cumulo di pene. L'ufficio immigrazione della questura di Vicenza lavora per mesi per ottemperare a tutte le pratiche burocratiche legate al rimpatrio dei due pericolosi pregiudicati stranieri, tra documenti, visti e autorizzazioni. Il questore Paolo Sartori emette un decreto di allontanamento dall'Italia e i due già detenuti nella casa circondariale di Vicenza vengono espulsi e scortati dagli uomini della questura sino al loro paese d'origine, dove vengono consegnati alla polizia del paese africano. Rimaniamo a Vicenza, continuano i controlli per la sicurezza in città. 266 sono le persone che sono state identificate negli ultimi controlli interforze straordinari disposti dal questore nel territorio comunale di Vicenza. Operazioni che hanno visto coinvolti oltre 50 uomini delle diverse forze di polizia che hanno protratto le loro verifiche fino a notte inoltrata. Le aree urbane interessate sono quelle segnalate dai cittadini che sono state a teatro di specifici episodi di illegalità e di tipo predatorio e di fenomeni di degrado. Particolare attenzione è stata posta al controllo sistematico dei parchi e dei giardini comunali. Oltre al centro storico, Campo Marzo, il quadrilatero, Parco Fornaci, gli agenti hanno passato al setaccio anche i giardini salvi, Parco Querini, Viale 10 Giugno, Piazzale della Vittoria e le principali arterie di uscita della città in direzione Verona. Predisposti sei posti di controllo che hanno verificato 95 veicoli in transito, controllati anche tra esercizi pubblici. Tra le persone identificate anche 71 stranieri e 37 con precedenti penali. Al termine delle operazioni il questore Paolo Sartori ha disposto tre fogli di via obbligatori con obbligo di rientro nel comune di residenza per tre cittadini italiani pregiudicati e due avvisi orali per pregiudicati che denotano una spiccata pericolosità sociale per reati contro la persona, il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti. E con la cronaca ci spostiamo a Costa Bissara, due ragazze vive per miracolo. Vediamo cosa è successo. Costa Bissara, rotatoria del botteghino, 5 del mattino. Poteva avere un bilancio drammatico l'uscita di strada autonoma di un'auto condotta da una ragazza che è finita violentemente contro un muretto. La vettura subito dopo l'impatto ha preso fuoco che ha distrutto il veicolo in poco tempo. Fortunatamente con lei, oltre ad un'amica, anche un ragazzo che ha avuto la prontezza di riflessi di trascinare fuori dall'automobile le due ragazze ferite prima che divampassero le fiamme. Sono state poi condotte dai medici da Insouen 118 al pronto soccorso mentre i vigili del fuoco mettevano in sicurezza l'area. Non è la prima volta che qui avvengono incidenti, soprattutto di notte e nei fine settimana. Il sindaco del comune sottolinea però che pur essendo molto trafficata la SP46 con 30.000 auto al giorno, quella rotatoria è stata realizzata rispettando tutte le norme di sicurezza implementate inoltre con segnalazioni luminose aggiuntive. Gli automobilisti delle volte o arrivano ubriachi o drogati o con tanto sonno investono nella segnaletica e sbattono anche sul muro di licenzione. Non passa settimana che non ci sia un incidente. Con ingegneri di viabilità non sappiamo più cosa fare perché questo è purtroppo il problema. Abbiamo molti e molti automobilisti indisciplinati che non conoscono anche la segnaletica. Io raccomando soprattutto ai giovani state attenti dove andate alla mattina dopo magari qualche nottata di baldoria. Torniamo ora a Vicenza nel quartiere Santa Bertilla, in particolare in via Ricasoli. I cittadini chiedevano il rifacimento dell'asfaltatura e risponde l'assessore Mattaglierardi. L'SOS dei residenti di via Ricasoli che oltre alla richiesta di intervento per la regolamentazione della sosta chiedono da tempo il rifacimento dell'asfaltatura. Buche e crepe sull'asfalto che rendono il passaggio insicuro ad auto e pedoni che entrano nella via densamente popolata anche alla luce delle nuove abitazioni. È una delle strade che è attenzionata. Non ha subito l'intervento quest'anno, nel 2022, ma andrà nella primavera del 2023 per un semplice motivo. Molteplici interventi di sottoservizi si sono siseguiti. Quindi non potevamo asfaltare per poi riaprire la strada per permettere interventi. Sono terminati, verranno completate alcune operazioni da vari soggetti sempre su sottoservizi e con la primavera verrà effettuato il ripristino. Quindi verrà sistemata e bonificata una strada da troppo tempo dimenticata ma che ha subito tantissimi interventi anche per nuove notizzazioni. Rimaniamo in città perché è stato approvato il progetto per la messa in sicurezza del ponte di via Maganza. 250 mila euro è l'importo finanziato dal PNRR per la messa in sicurezza del ponte di via Maganza il cui progetto definitivo è appena stato approvato dalla Giunta Comunale. Le indagini sullo stato di salute della struttura effettuate lo scorso luglio hanno permesso di censire e verificare l'effettiva necessità di una manutenzione straordinaria e l'adeguamento strutturale dei marciapiedi laterali. Se da una parte si tratterà di ripristinare ammaloramenti superficiali e la realizzazione di un nuovo parapetto a norma l'intervento dovrà essere coordinato con i tecnici di Biacqua che realizzeranno un muro di contenimento dell'impianto di sollevamento presente a Monte del Ponte. Per questo motivo il cantiere sarà avviato congiuntamente a giugno del prossimo anno e richiederà circa 90 giorni di tempo per completare l'opera. Cambiamo ora pagina e parliamo di ambiente e aria pulita. In Veneto la tavola rotonda organizzata nel Palazzo della Regione getta luce sulle azioni di risanamento in prospettiva futura. Il dialogo con Lega Ambiente vede protagonista per Vicenza l'assessore Simona Siotto. Aria pulita. In Veneto la tavola rotonda organizzata nel Palazzo della Regione a Venezia getta luce sulle azioni di risanamento in prospettiva futura. Il dialogo con Lega Ambiente vede protagonista per Vicenza l'assessore Simona Siotto. L'ambiente è una materia assolutamente trasversale, ha bisogno e fortunatamente sta arrivando della sensibilità anche di tutti gli altri settori, dall'istruzione all'urbanistica all'edilizia privata, occorre tutti rendersi conto che l'ambiente funziona se tutti gli altri settori dell'amministrazione e della cittadinanza funzionano. Nella tavola rotonda si parte dalle politiche europee per passare a quelle italiane e a quelle venete e poi chiudere sulle strategie ambientali applicate a Vicenza. Nella città del Palladio gli ultimi anni si è investito sui boschi urbani, sulla realizzazione di piste ciclabili nuove, sulla manutenzione di quelle vecchie e ancora si è investito sulle comunità energetiche per l'autoproduzione di energia rinnovabile per gli edifici pubblici e il consumo privato. Altro tema, il rinnovamento tecnologico delle auto, un privilegio che si possono concedere solo le classi sociali più ricche. Lo stop, imposto e basta il livello arancione alle vetture diesel Euro 5, vale a dire a macchine immatricolate fino al 2014, diventa quantomeno discutibile e comunque difficile da applicare in un momento di grossa difficoltà economica. Cambiamo ora pagina e ci spostiamo all'ospedale San Bortolo che sta sperimentando da tre anni una speciale terapia innovativa contro le uccemie e linfomi. Vicenza è centro di riferimento del Triveneto, l'ematologia di Vicenza non ha bisogno che la presenti io perché negli anni c'è stato un susseguirsi di professionisti molto validi che hanno creduto in quello che facevano e hanno lasciato anche allievi di interesse. L'ematologia del San Bortolo si conferma eccellenza nazionale nella guerra contro la leucemia e i linfomi. Tre anni fa fu autorizzata dall'AIFA, prima nel nord-est, nell'utilizzo della terapia innovativa denominata CART-T. Oggi, dopo aver valutato quasi 100 pazienti, è tempo di bilanci. È un bilancio molto positivo perché comunque siamo riusciti a trattare più di 30 pazienti con questo tipo di patologia e di questi almeno il 50% hanno avuto una guarigione, possiamo dire, pressoché completa della loro patologia. Un progetto che potremmo anche definire visionario, questi laboratori arrivano in autorità dopo molti anni di lavoro ed è per quello che sono pochi sul territorio nazionale. Svolgono un ruolo fondamentale perché questa è un po' la medicina del futuro, riuscire a prendere le cellule del paziente e a renderle, ingegnerizzarle e a renderle delle cellule killer verso la sua stessa malattia. Questo stiamo cercando di fare a Vicenza, abbiamo fatto a Vicenza con dei protocolli autorizzati. Questa sera in prima serata invece torna a Focus, la grande attualità vista dal Veneto ma soprattutto dai Veneti, ospiti del nostro direttore Luigi Bacialli e questa sera Pietro Beanna, Dimitri Coyne, Monica Coyne, Alessandro Curioni, Nicola Falconi, Gio Formaggio, Abdullah Endaye e Roberto Piccin. Vi lasciamo ora alle previsioni meteo, grazie per averci seguito.